Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Beatrice Luzzi si esprime senza riserve, prendendo di mira non solo Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e gli autori del Grande Fratello. Le sue osservazioni taglienti sono giunte ieri sera dopo una rivelazione di Simona Tagli. La nuova concorrente ha ribadito di essere entrata nel gioco considerando Beatrice come la sua ennesima nemica, ma questa affermazione non ha sorpreso nessuno, data la chiarezza con cui Simona ha presentato se stessa. Nel momento in cui sono arrivata qui, ero emozionatissima. Mi sento una tigre sotto mentite spoglie. Non sarò la concorrente che si limita a osservare passivamente. Affronto le dinamiche in modo diretto e aperto. Sono qui per combattere, perché sono una guerriera. Chi tra i concorrenti ha bisogno di un cambiamento di look, partirei proprio da Beatrice. I suoi capelli sembrano un groviglio. Ha bisogno di una ventata di freschezza e darei un tocco più leggero a quella personalità così spigolosa. Anita? È meglio lasciarla così com'è, con la sua forte personalità da amazzone. Beatrice non perde l'occasione di criticare gli autori del Grande Fratello dopo il party di compleanno di Simona. Durante una conversazione privata sul divano, Simona confida a Beatrice. Inizialmente ero qui con l'idea di essere tua avversaria. Ma poi ho cambiato idea e mi sono schierata dall'altra parte. Ho ascoltato le storie dei ragazzi e ho deciso di cambiare prospettiva. Non ho problemi ad ammettere di aver sbagliato e di aver modificato il mio punto di vista. Ho preso una posizione completamente opposta. Beatrice, con un sorriso beffardo, lancia alcune frecciate agli autori del programma e, tra una battuta e l'altra, complimenta l'amica barra alleata. Ma che situazione assurda, vero? Comunque, complimenti a te per la tua decisione. Davvero? È tutto così imprevedibile qui, anche per loro, gli autori. Veramente senza scrupoli. Ma è stato coraggioso da parte tua cambiare idea. È un segno di grande indipendenza e libertà il fatto che tu ti sia permessa di farlo. È davvero bello. Anche se in realtà loro ti avevano messa qui con un'idea precisa e poi tu. Ma proprio mentre Beatrice stava per continuare, la regia ha interrotto l'audio. Tu che ne pensi delle strategie messe in moto dal grande fratello e della censura su Beatrice? Faccelo sapere nei commenti, e attiva la campanella per seguirci. Ciao e grazie.